All'angolo blu della One Shot 2561, Lorenzo Giorgiani! Un approccio a Lorenzo! Guardate la giacca come sbellucica! Il suo sfidante all'angolo rosso della Pro Fighting Bologna, Manuel De Luca! Il suo sfido faccia interno scl включati Ciao, ciao! Giovi! Massivo... Guardate! Guardate le parole, deutschen motoriquini è piacere! Un applauso anche per Manuel! Un applauso anche per Manuel! Incontro di Guaitai! Categoria 65 kg e mezzo, tre riprese per tre minuti, le regole sono quelle delle Guaitai! E' un incontro classe A! Un applauso anche per mezzo, le regole sono quelle delle Guaitai! Un applauso anche per mezzo, le regole sono quelle delle Guaitai! Un applauso anche per mezzo, le regole sono quelle delle Guaitai! Un applauso anche per mezzo, le regole sono quelle delle Guaitai! Un applauso anche per mezzo, le regole sono quelle delle Guaitai! Un applauso anche per mezzo, le regole sono 4 due del futuro! Grazie a tutti. 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 Avete visto le tecniche di clinch e le tecniche di gomito presenti in questa disciplina a differenza di quelle che abbiamo visto finora. Un applauso per Melissa. Un applauso per Melissa. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.